Buon sabato 20 febbraio, siamo alla vigilia del nostro consueto seminario mensile, nel quale invito tutti a partecipare, partecipare attivamente, non semplicemente ascoltare, o meglio, ascoltare sì, ma no, è semplicemente udire quello che viene detto. Ascoltare è un percorso molto più complesso del semplice udire, significa far sì che ognuno di noi sia attivamente presente all'ascolto, che sia capace di mettersi un po' in discussione e attivamente porre anche questioni di natura critica nei confronti di ciò che viene detto. Non è l'ascolto, anche se rievoca inevitabilmente l'obbedienza, un atto di passività. L'obbedienza è un atto di grande attività, significa avere capacità di discernimento, significa scegliere. Il disobbediente non ascolta, non sceglie e soprattutto non coltiva il discernimento, semplicemente si ribella. Si ribella in maniera assolutamente infeconda, si ribella per il gusto di ribellarsi, si ribella per obbedire sostanzialmente a se stesso. Il disobbediente è il più estremo degli obbedienti, perché è completamente attanagliato dalle proprie convinzioni, dalle proprie idee, dalla propria egolatria, cioè idolatra a se stesso sostanzialmente. Ecco perché l'obbedienza è un atto di profonda e rivoltosa libertà, perché si fonda sulla consapevolezza della relazione, sulla assoluta certezza della nostra fragilità e della nostra inevitabile dipendenza nei confronti del prossimo. La ragione per cui il termine dipendenza è stato usato impropriamente per definire una condizione patologica da superare, senza mettere in discussione gli stili di vita, sottesi alle forme della dipendenza. Possiamo essere dipendenti dei nostri pensieri, possiamo essere dipendenti dalle nostre aspettative, possiamo essere dipendenti dalle sostanze che ci permettono scorciatoie per eludere una condizione contraddittoria e dolorosa che la vita ci riserva. possiamo essere dipendenti da un mandato culturale che ci obbliga a ritenere che la vita ha senso e successo solo se siamo conformi a un certo modo di dare senso alla vita stessa. E noi stiamo vivendo naturalmente questa fase piuttosto evidente in questo tempo di epidemia. Siamo dipendenti da un'immagine dell'esistenza che colloca la presunta normalità in una assolutezza caratterizzata da ciò che è già accaduto, da ciò che ha preceduto l'epidemia stessa. Non ci accorgiamo che in realtà stiamo mettendo a nudo semplicemente la nostra fragilità, l'insensatezza del nostro modo di vivere, caratterizzato dalla indisponibilità di vivere nella relazione. Relazione tra soggetti autonomi e interdipendenti. Per questo il seminario che cerca di far emergere una realtà che intrinseca la vita stessa, cioè la festa, la gioiosità, che non risparmia naturalmente la difficoltà e il dolore, tutt'altro, mette in evidenza la fragilità e fa sì che questa festa sia all'insegna della sobrietà, che non significa una festa mortificata, esuberante, inebriante. Noi dobbiamo cercare una sobrietà inebriante, non mortificante. Dobbiamo imparare a vivere in pienezza di spirito questa nostra appartenenza alle relazioni limitanti da un punto di vista etico il nostro agire. Se noi veramente pensassimo ogni volta che facciamo qualcosa, le conseguenze che ne derivano, indipendentemente dalla nostra volontà, per chi ci sta attorno, non solo esseri umani, ma mondo animale, mondo vegetale, il cosmo stesso ne risente in maniera infinitesimale naturalmente. Come ho già ricordato, stiamo ricercando la presenza della vita altrove, ma ci sottraiamo al compito fondamentale che è quello di cogliere, vedere e ascoltare la vita qui, ora, nel mondo dove abitiamo, nelle relazioni che ci caratterizzano. ieri ho ricordato come le nostre gabbie siano costituite da ferre e serrature che rappresentano attese e assoggettamenti a prospettive immaginate come appetibili. i nostri sono veramente dei formidabili appetiti rispetto alle aspettative. Ci nutriamo di un futuro intensamente bulimico dove immaginiamo di ingrossare le nostre riserve economiche per noi stessi, in cui immaginiamo di poter godere per noi stessi traducendo gli altri in semplici oggetti. Guardate che la rabbia e l'aggressività che sta attraversando il mondo attuale, ma che ha sempre caratterizzato la presenza dell'essere umano sulla Terra che oscilla costantemente tra prudenza e aggressività, altro non è che una rappresentazione della incontenibile insoddisfazione relativamente al tempo che stiamo vivendo. Ma anziché mettere in discussione i nostri stili di vita per questo grado di insoddisfazione percepito, che cosa facciamo? Semplicemente ci assoggettiamo a quello che la cultura dominante ci impone e che anche i sistemi di cura alla fine finiscono per rappresentare come obiettivo da raggiungere. Cioè, che cosa ci chiede sostanzialmente un sistema di cura? Di stabilizzarci, di metterci il cuore in silenzio, ovviamente si usa in pace, ma in realtà in silenzio, che non sia turbolento, interessante perché lo stato d'ansia ha una caratteristica sintomatologica molto precisa, quella di esprimersi attraverso un'accelerazione del battito cardiaco che a un certo punto diventa anche disarmonico, quello che viene definita aritmia, e anche una certa difficoltà funzionale sul piano respiratorio, ti viene il nodo alla gola, senti che il respiro si fa affannoso, hai paura, senza avere di fronte a sé un oggetto preciso, questa è l'ansia, l'ansia che a lungo andare naturalmente ti disarma sul piano esistenziale, diventi paralizzato rispetto alla prospettiva del vivere, ti chiudi in te stesso, ti isoli, cioè fai esattamente quello che la cultura dominante vuole che sia l'essere umano, un soggetto indipendente, isolato, tutta la enfatizzazione della privacy nel tempo in cui siamo sovraesposti alla curiosità altrui, telecamere che ci osservano, hacker che prendono i nostri dati, addirittura si afferma in internet che ci possono rubare l'identità, e che siamo nel tempo della massima esposizione, della cruda nudità della nostra esistenza, eppure invochiamo che cosa? La privacy, confondendola con la riservatezza, col rispetto della diversità, guardate, il rispetto della diversità e riservatezza sono una delle due regole fondamentali nella presenza del club accanto alla perseveranza nella continuità che trova grande valore nella puntualità, nella indisponibilità, per esempio, a fumare durante l'incontro del club e nella accettazione di una divisione che rievoca in noi la necessità di essere soggetti evolutivi in costante trasformazione. Ecco che allora ripercorriamo in essi tra Dio che genera se stesso nell'uomo fa un atto di trascendenza immanente una sorta di suo ritiro dall'esistenza ponendo il tema della sacralità nell'umano nel vivente nel creato e siccome in ognuno di altro da sé che incontriamo troviamo la presenza contraddittoria di Dio che ci ha lasciato liberi anche di fare del male oltre che naturalmente di fare del bene sta a noi poi scegliere però noi anche al più dissipatore degli esseri che incontriamo dobbiamo portare rispetto non condivisione qualora prevalga il male ma rispetto dobbiamo farne oggetto d'amore che non è far sì che gli altri siano come noi vorremmo che fossero questo significa plasmare oggetti quante volte nelle relazioni affettive interpersonali dovremmo correggere l'altro rimanendo indisponibili a correggere noi stessi tra guardate tra pagliuzze e travi che naturalmente le pagliuzze le vediamo negli altri confondendole per travi i nostri difetti che sono molto spesso delle travi li autoassolviamo attraverso l'immagine della pagliuzza cioè siamo molto severi nei confronti degli altri quanto non lo siamo nei confronti di noi stessi ma questa severità che per carità dovrebbe essere legittima nei nostri confronti non deve poi tradursi in ulteriore amplificazione della severità nei confronti degli altri siccome io sono pretendo da me stesso sono severo quante volte i genitori dicono ai figli trasgressivi o apparentemente devianti attenzione perché non sono altro che dei perseveranti conservatori delle persone che semplicemente si dispongono a vivere da soggettati la cultura dominante non si pongono in una dimensione trasformativa i devianti sono nient'altro che la rappresentazione al massimo grado di una normalità che è deviante rispetto a una prospettiva ecologica cioè noi che a parole siamo ecologiche ma nei fatti non lo siamo proprio per niente e non è sufficiente neppure la raccolta differenziata o i cappotti che vogliamo mettere negli edifici sperando che questa forma di ingegneria ambientale adesso c'è anche la green economy l'economia verde ma attenzione perché tutto questo verde è profondamente inquinato dalla indisponibilità di cambiare prospettiva modo di vivere di sottrarci definitivamente a quello che appunto ho ricordato più volte Agabè ha definito il comunismo capitalista cioè l'ossessione dell'arricchimento personale con un assoluto assoggettamento collettivo che non mette in crisi nulla e non mette in discussione nulla questo è il punto sul quale dobbiamo imparare riflettere e quando ci assale l'ansia con quella sintomatologia che ho descritto quando ci assale la paura quando tutto questo diventa un'ossessione non cerchiamo rifugio in forme di autoesclusione facciamo sentire la nostra parola ma allo stesso tempo predisponiamoci contro voglia all'ascolto non della cultura dominante ma di quel grido che viene dalla terra di quel grido che viene da una evidente crescente ingiustizia sociale da quel grido che deriva dal fatto che la politica non sa più essere luogo di educazione di paideia di correzione costante dei nostri comportamenti finalizzati al bene comune e questo si esprime soprattutto quando il nostro malessere il nostro disagio esistenziale ha a che vedere il nostro stato mentale che riverbera nient'altro che uno stato mentale collettivo quella che fu definita l'anima mundi pertanto predisponendoci alla festa cerchiamo di rivisitare criticamente questa presenza nel sacro in ciascuno di noi nell'altro e nel creato al di là di ogni prospettiva religiosa potete essere non credenti buddhisti islamici cristiani tutto quello che si vuole ma quello che deve in qualche maniera improntare la nostra esistenza è l'ecologia profonda tutti i sistemi di cura devono essere orientati a questo perché il grido del creato che passa anche attraverso quella rappresentazione estrema di una normalità deviante che è caratteristica di tutte le sintomatologie che vengono annoverate nel campo della salute mentale ebbene quel grido deve essere capace di innescare meccanismo di autentica ribellione non la ribellione dei disobbedienti ma la ribellione di coloro che ascoltano che ascoltano la vita che ascoltano la dimensione vera dell'amore che apre una prospettiva relazionale affettiva radicalmente diversa oggi ne abbiamo l'opportunità ma per farlo in maniera efficace abbiamo bisogno di riconoscere una interrelazione tra soggetti autonomi e interdipendenti che si dispongano ad accettare un percorso di cura a partire da se stessi e anche nell'insieme complesso delle relazioni che ci interrelano e ci mettono in relazione è una fantastica prospettiva devo dire che non richiederà tempi brevi ma tempi lunghissimi saranno le generazioni future se vorranno prestare fede al dettame della vita a operare una trasformazione epocale non sarà facile sarà difficilissimo ma non possiamo dimenticare che allora sì la festa comincerà pur nei travagli dell'esistenza liberandoci naturalmente dall'angoscia della morte essendo capaci di vivere ogni istante della nostra esistenza come se fosse l'eternità e quindi disporre la dimensione della festa in ogni attimo in ogni istante non ritualizzarlo solo in determinate circostanze ma essere disponibili alla festa e se la famiglia vuole diventare autenticamente il luogo della sacralità deve aprire le porte deve sconfinare deve riconoscere che il blocco monolitico che la caratterizza è solo una insensatezza ideologica che non permette di aprire gli occhi e le orecchie per vedere e ascoltare buona giornata a tutti di un'esistenza